Bilancio delle attività dell'ente comunale di Capaccio Pestum da parte del primo cittadino Franco Alfieri. Stiamo lavorando, dichiara il sindaco, per il grande progetto che riguarda la realizzazione di un palazzetto per l'atletica al coperto tra Gropoli e Capaccio. Fra un mesetto sarà inaugurato il campo di calcio vatuano su Capaccio Capoluogo, erba sintetica, gradinate da mille posti, parcheggi, insomma una struttura moderna. Stiamo lavorando per completare le due sfere geotetiche, stiamo temporeggiando un po' perché non vogliamo farlo con fondi di bilancio, lo potremmo anche fare, però c'è stato un bando nel frattempo che è uscito per il completamento di palestre che sono a servizio dell'edilizia scolastica, se lo possiamo fare con due finanziamenti distinti da 350.000 euro cada uno lo facciamo ben volentieri, quindi perciò dico di pazientare un po'. Saranno due belle strutture e poi stiamo lavorando a questo grande progetto del palazzetto per l'atletica coperto tra Gropoli e Capaccio, la Licinella, una struttura che non c'è da pescare in giù, siamo andati già a vederlo, abbiamo individuato il terreno, lo stiamo progettando e lo realizzeremo, una struttura non soltanto per praticare lo sport a livello locale, ma per ospitare eventi internazionali e quindi leva per il turismo, occupazione, ricchezza e benessere.